Oh cara moglie, stasera ti prego, dia mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire, non sono cose che deve sentire, proprio stamane là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, mi è arrivata la liquidazione, mi ha licenziato senza pietà, è la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà, quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà, se invece vince perché i cromegri gli dann la forza che lui non ha, questo sedisto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta, ecco il padrone facendo una massa, dopo l'alto cominciano a entrare, oh cara moglie dovevi vederli, venire avanti curvati e piegati, e noi gridare e cromere ventote, e loro dreghetti senza guardar, i poveretti facevano pena, ma dietro a loro lasso il portone, rideva allegro il barco padrone, gli ho maledetti senza pietà, oh cara moglie io prima ho sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, ti ha da capire che cosa vuol dire, lontare per la libertà, oh cara moglie io prima ho sbagliato, dia mio figlio che venga a sentire, ti ha da capire che cosa vuol dire, lontare per la libertà, ti ha da capire che cosa vuol dire, lontare per la libertà, ti ha da capire che cosa vuol dire, lontare per la libertà, che cosa vuol dire, lontare per la libertà, ti ha da capire che cosa vuol dire, lontare per la libertà, ti ha da capire che cosa vuol dire, lontare per la libertà ei